Immigrazione, Bolzano coordina una rete internazionale. Un nuovo progetto finalizzato a utilizzare le risorse professionali nella mediazione interculturale e nella prevenzione e gestione dei conflitti è stato attivato con una riunione operativa tenutasi a Roma alla presenza anche dell'assessore provinciale Barbara Repetto. La provincia autonoma di Bolzano è stata incaricata di coordinare una rete transnazionale finalizzata al sostegno dell'immigrazione. Le regioni aderenti hanno concordato il progetto stipulando un apposito accordo all'interno della programmazione 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo. La provincia di Bolzano, rappresentata dall'assessore all'immigrazione Repetto, è stata individuata appunto come coordinatrice del progetto. Con scambi di buone prassi e condivisione di pratiche e strumenti verrà data particolare importanza alle figure professionali del mediatore interculturale e dell'operatore di pace. Ha spiegato la Repetto in una nota. La nuova rete intende sostenere gli obiettivi dell'Unione Europea sui temi della coesione e dell'inclusione sociale, del dialogo interculturale e della pace per facilitare la tutela delle minoranze autoctone e di quelle derivate dai flussi migratori e alla prevenzione, gestione e trasformazione dei conflitti.